Far vedere alla cittadinanza che il teatro, che è il cuore pulsante della nostra attività culturale castiglionese è acceso da anche un segnale di speranza, di voglia di ripartenza. Le luci del teatro Spina si sono così riaccese simbolicamente. Anche Castiglion Fiorentino infatti ha aderito all'iniziativa dell'Unione Nazionale Interpreti Teatro ed Audiovisivo. È un piccolo segnale per far vedere che ci siamo, che siamo pronti anche a ripartire. La speranza infatti adesso è quella di tornare a parlare il prima possibile di teatro, spettacoli dal vivo e di una riapertura in sicurezza. Il teatro Spina è già pronto per quel giorno tanto atteso. Il gestore mi ha informato qualche giorno fa di aver stipulato i contratti, aveva già scritturato gli artisti e già la stagione teatrale è in piedi. Ovviamente con la clausola che laddove le condizioni sanitarie non lo permettessero, i contratti si risolvono. Ci sono nomi come Isabella Ragonese, Lodovini, Elio Germano, Lodoguenzi che verranno a Castiglion Fiorentino con la prossima stagione. La prossima stagione vuol dire non appena il teatro riaprirà. Quindi oltre che un segnale noi abbiamo voluto dare proprio un segno tangibile del fatto che nonostante questa terribile situazione non ci siamo dimenticati dei lavoratori del teatro, dei tanti spettatori che affollano e frequentano il nostro teatro a Castiglion Fiorentino.